Minchia ragazzi, bella partita della minchia, complimenti non era assolutamente facile fare una partita del genere in Champions League dato che si parlava molto di gambe pronte per l'atletico era importante farsi trovare pronti nel momento decisivo e noi ci siamo fatti trovare pronti evitando per l'ennesima volta di giocare a calcio uno schifo, non ci sono veramente altri termini di solito dai, quando non vinciamo in campionato e gli altri godono te cosa devi dire? Vabbè dai, godete per pietà oggi fanno bene a godere perché oggi te lo meriti perché oggi hai rifiutato di giocare una partita di Champions League non tirando mai in porta, aspettando sempre hai fatto un tiro al decimo su una punizione da 25 metri forse anche di più con Cristiano Ronaldo per carità punizione bellissima, gran tiro, ottima parata di Oblak per l'amor di Dio ma poi sei tornato a tirare in porta quando eri sotto di 2 a 0 con Bernardeschi al novantesimo che lì per carità, anche lì era un ottimo tiro poteva entrare per carità del signore sul 2 a 1 sicuramente sarebbe stata una storia diversa a ritorno però rimane il fatto che se tu non giochi e non vuoi giocare te lo meriti poi, oh va bene, 2 a 0 non è un risultato impossibile da rimontare abbiamo visto che sono stati rimontati anche i 3 a 0 per l'amor di Dio devi fare comunque un partitone, devi correre, devi giocare a calcio e soprattutto devi fare più di 2 gol preferibilmente senza prenderli ad una squadra che già sullo 0 a 0 di base ha una fase difensiva spettacolare figuriamoci poi quando è sopra 2 a 0 nel punteggio totale e deve esclusivamente difendersi fondamentalmente quindi prepariamo già le madonne ma che poi alla fine della fiera ti è andata anche bene perché avevano fischiato un calcio di rigore che per carità non era rigore e infatti fortunatamente il VAR ha dato punizione ti avevano annullato un altro gol contro sempre per spinta di Morata a Chiellini e lì già te dovevi comunque capire aspetta un attimo che questi qui stanno iniziando forse ad essere pericolosi dopo un gol annullato poi Allegri per due volte e l'hanno detto i telegronisti ha detto no no il cambio lo facciamo dopo due volte due gol presi uno ok annullato l'altro calcio d'angolo Gimenez palla dentro e niente c'è veramente poco da dire perché fondamentalmente non hai fatto niente l'atletico ha corso ha pressato ha giocato è stato molto pericoloso in fase offensiva perché ok rigore è il discorso di prima gol annullato poi traversa con miracolo di Scesni e Chiellini sulla ribattuta altri tiri in porta potenzialmente pericolosi te non ne hai fatto niente e quando non giochi e soprattutto giochi contro chi mette l'anime in campo e vuole vincere e perdi che sia 1, 2, 3 o più a 0 te lo meriti stop perché il discorso è sempre quello poi sotto di 2 a 0 hai deciso no di puntare un pochino sulla fase offensiva e sei stato effettivamente pericoloso ma il problema come sempre come spesso è capitato lo fai sul 2 a 0 quando ormai non dico che tutto è buttato alle ortiche perché comunque hai altri 90 minuti hai una partita di ritorno due li hai presi due li puoi anche fare assolutamente però ad oggi se la Juventus dovesse uscire dalla Champions League uscirebbe con una figura di merda perché è ciò che è senza se e senza ma e soprattutto meritatamente oh contro l'atletico io ci posso assolutamente stare a perdere per il discorso che comunque è una squadra che ha vinto l'ultima Europa League è una squadra concreta è una squadra solida è una squadra compatta è la squadra che avrà la finale di Champions League in casa quindi non puoi no avere la pretesa di andare là dominare 3 a 0 però non puoi neanche decidere da prima della partita di non giocare aspettare l'avversario tutto il tempo renderti ogni tanto così ogni morte di papa potenzialmente pericoloso non esiste che tu giochi in questa maniera quindi se esci se tu dovessi uscire dopo una partita del genere a prescindere da come sarà il ritorno beh te lo meriterai faranno bene a godere e secondo me ci potrebbero essere anche parecchi cambi no? non so tanto se a livello di squadra di rosa però sai l'allenatore può anche darsi noi ci vediamo domani con la live reaction spero almeno che quella sia venuta un minimo divertente spero solamente quella almeno quella roba lì adesso per carità ribadisco è un 2 a 0 non è assolutamente facile da rimontare considerando che è l'Atletico Madrid però non è neanche un risultato impossibile in casa comunque considerando anche le qualità che hai poi ovviamente le qualità che hai devi dimostrarle però non è tutto completamente aperto però fortunatamente non è neanche tutto completamente un discorso chiuso io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve allora Grazie a tutti.